Inèi, che vuoi? Parlare. Di cosa? Di noi. Non esiste nessun noi. Arrivederci, me lì. Inèi, l'ho cercata, ma tu non ti sei fatta trovare. E che devo fare secondo te? Vederti di nascosto. Hai ragione, ma io non sto bene. Non mi importa come stai tu e nemmeno come sto io. L'importante è soltanto chiara. Aspetta. Che cos'è? Parigi. Che significa Parigi? Ninè, Parigi. Io e te. Da soli. E basta. Ma perché ridi? Ma perché non mi credi? Lo so che ho sbagliato, però questa è l'unica cosa da fare, credimi. Ho organizzato tutto. Fasano, stazione, treno, aeroplano, Parigi, Place Vendôme, Grand Hotel. Il 25. Il 25? Mannaggia a te, papà. Una volta soltanto facciamo quello che ci piace fare. Tanto lo so che lo vuoi anche tu. No. E ne pensaci almeno. No. Tu ci hai pensato prima di lasciarmi per sposare un'altra? Quando le canzoni finiranno Che cosa ne faremo di tutto quanto il nostro amore?